Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, mondo carriera allenatore, io sono sempre Andre e oggi siamo qua con una nuovissima top, questa volta diciamo anche abbastanza divertente, nel senso anche a livello estetico ci sta di brutto, infatti oggi siamo qua con i top 11 under 25, quindi saranno anche un po' tra virgolette vecchiotti, cappelloni e rasta con gli scanface, quindi saranno i migliori giocatori con i capelli più strani, più bizzarri, ma soprattutto i più belli da vedere, visto che hanno il gameface e quindi anche nel gioco li potremmo vedere, quindi secondo me è una top veramente interessantissima, che comunque a parte gli scherzi ragazzi sono tutti veramente forti, sono giocatori molto interessanti, che non costano neanche così tanto, quindi potreste anche comprarli tutti, di modo da farvi una bella squadretta esotica e particolare, comunque cominciamo subito dal portiere con Blackman, questo ragazzo qua sicuramente lo conosceranno in alcuni di voi, il portiere Jamal Rotterdam United, 69 di overall, 72 di potenziale, un portiereone comunque di 1,99, quindi 2 metri per 93 kg, veramente un armadio a dir poco, 1 milione e 4 di valore, 14.500 come stipendio settimanale, 69 di overall di base, 72 di potenziale, comunque ormai è abbastanza vecchiotto, dal punto di vista delle statistiche del portiere però è forte ragazzi, è veramente un portiere molto molto interessante, anche perché comunque è grosso, è di presenza, quindi fa sempre la sua scena e in più esce sui cross, ma soprattutto guardiamoci le trecine verdi spettacolari come la sua maglia, che fa veramente paura, stupende, tanta tanta roba, Jamal Blackman. Il secondo è Thomas Tavares che abbiamo già visto, del Benfica terzino destro, 19 anni portoghese, 73 di overall, 86 di potenziale, sicuramente lui un giocatore straordinario, l'abbiamo visto in tantissime top, costa poco, costa 7 milioni, hanno stipendi 3.400, due caratteristiche speciali, rimessa lunga che per un terzino direi che ci sta di brutto, e dribblatore veloce, perché comunque è un giocatore abbastanza offensivo, come vediamo, livello di attacco alto e difesa medio, quindi sicuramente è interessante, in più anche molto alto, quindi se volete metterlo come difensore centrale può essere anche un'altra soluzione, ottime statistiche di velocità e difesa, quindi molto interessante, e soprattutto ha questi bel cespuglio, questi cappelloni alla Marsello che sono straordinari, ma vedrete che ce ne saranno ancora più prorompenti, diciamo così. Il terzo è Jason Denier, eh sì ragazzi, questo giocatore qua, belga, ormai 25enne del Lione, 80 di overall con 83 di potenziale, non cresce tantissimo, ma è veramente forte, 25 milioni di valore, stipendio 60.000, quasi 50 milioni di clausole, è un giocatore molto veloce, molto forte fisicamente e dal punto di vista difensivo molto molto forte, in più, come vedete, ha questa treccia tipo alla Van Dijk, in realtà questo giocatore è spesso associato a Van Dijk, uno per la corporatura fisica, perché sono abbastanza simili, anche se Denier è molto più basso, ma poi soprattutto perché anche su FIFA ha questa treccia che ha anche Van Dijk, diciamo, e quindi sono molto simili, però sono dei giocatori veramente straordinari e soprattutto Denier è molto forte. I Tanampadu, ragazzi, adesso lui c'è un aneddoto, nel senso che adesso si è tagliato i capelli, infatti come vedete dalla fotina che ha di fianco al nome, ha i capelli corti, tutta la rasatura fatta bene, ma su FIFA ha ancora questi trecioni, rasta un po' alla medusa, che può fare il difensore centrale, il mediano e il centrocampista. I Tanampadu comunque lo conoscono abbastanza tutti, non solo per il taglio particolare dei capelli, ma perché anche dal punto di vista del gioco è un giocatore molto interessante. 67 di overall, 84 di potenziale, può fare abbastanza tutto, costa poco, 2 milioni e 5, uno stipendio di 5.400, ha tutte le statistiche veramente equilibrate, perché veramente può fare qualsiasi ruolo, sicuramente non è molto offensivo come giocatore, ma diciamo che per tutti i ruoli difensivi è un'ottima scelta, in più affonde i contrasti come caratteristica speciale, quindi I Tanampadu con questi capelli qua, rasta, fa paura, straordinario. Marlon Fosse ragazzi, guardate qua come si presenta questo 21enne americano che può fare il terzino destro o il quinto di difesa destra, quindi quando corre chissà come svolazzano questi capelli, se non ci fosse quella fascia lì che li tiene non so dove finirebbero. Comunque un giocatore interessante, perché vale 700.000 euro, uno stipendio di 8.800, 61 di overall di base con 70 di potenziale, quindi cresce abbastanza, è molto veloce come potete vedere già dalle statistiche di base, anche dal punto di vista difensivo è molto bravo, anche lui però è un giocatore molto offensivo, e vedete attacco alto, difesa alto, quindi è un giocatore che comunque corre su questa fascia, peccato per l'infortunio facile come caratteristica speciale, però questo Fossei del Fulham è veramente interessante, dei capelli spettacolari. Trevo Cialoba, altro ragazzo che abbiamo già visto del Chelsea, CDC o CC, 3 debilità, 3 piedi deboli, è un giocatore veramente armadio, un 91 per 84 kg, 70 di overall con 79 di potenziale, 3.400.000 di valore, anche lui giocatore diciamo nella media, molto interessante, molto equilibrato, nulla di che ma non male, è sicuramente un'ottima scelta per squadrette magari di media, alta classifica, medio basso anche, per avere un punto fermo a centrocampo. E in più diciamo queste treccine fantastiche con le punte bionde sono veramente straordinarie, guardate come saltella, come sballon, sono fantastiche. Chuduri ragazzi, Hamza Chuduri, lui vabbè non poteva assolutamente mancare in questa top, credo che tutti lo stessero aspettando, perché Hamza Chuduri ha i capelli credo più particolari che io abbia mai visto, non che gli altri non li abbiano, ma lui in particolare ha questo cespuglio foltissimo che rimane perfettamente in posizione quando corre, non so se li lacca, se fa qualcosa però fantastico, comunque mediano del Leicester, giocatore anche liberamente interessante, giocatore molto difensivo, però 88 aggressività, 74 agilità, 76 resistenza, dal punto di vista tecnico molto forte, 76 di passaggio corto, 66 passaggio lungo, 77 lettura difensiva, comunque 74 di base con 78 di potenziale, affonda i contrasti come caratteristica speciale, quindi assolutamente Chuduri molto interessante, vale 5 milioni e 5, uno stipendio di 45 mila, quindi chiede un po' di soldi a livello di stipendio, ma alla fine vi lo potete portare a casa con 6 milioni di euro, diciamo così, quindi sicuramente Chuduri è interessante, oltre che particolare. Matteo Gendusi, altro che non poteva assolutamente mancare, ma secondo me ragazzi, lui è quello con i cappelli diciamo un po' meno particolari, nel senso sì, sono lunghi, però alla fine sono ricci, sono normali, diciamo così, però ha questa bellissima chioma riccia che ci sta assolutamente. Comunque giocatore dell'Hert Berlino qua lo vediamo sempre all'Arsenal nelle top, perché vi ricordo, sono all'inizio stagione, ho simulato proprio giusto una settimana, due, per avere gli overall dei giocatori, quindi Gendusi ci sta che sia ancora dell'Arsenal, 22 milioni di euro, praticamente quasi 23 e 28 mila come stipendio settimanale, 86 di potenziale da 77 di overall, quindi sicuramente è uno dei giocatori più interessanti, l'abbiamo già visto e stravisto che Gendusi è sicuramente un ottimo, ottimo centrocampista, sia come mediano che come mezzala, perché anche quando fa la mezzala spinge e ha un'ottima visione per imbucare gli attaccanti, gli esterni e chi si inserisce, e in più passaggi lunghi come caratteristica speciale, quindi sicuramente Matteo Gendusi, giocatore, anche lui come Ciuduri, interessantissimo, ma anche molto particolare, quindi questi qua sono veramente delle scelte spettacolari. Poi abbiamo, attenzione, Alex Aiwobi, questo è veramente interessante, a me piace da morire Aiwobi, anche nella realtà, comunque un giocatore che può fare l'esterno destro o l'ala sinistra, 3 di piede debole, 4 di abilità, 78 di overall di base con 82 di potenziale, anche lui queste trecine molto particolari, gliele hanno accorciate un pochino su FIFA, perché in realtà, come vedete nella fotina dove c'è il nome, sono un po' più lunghe, però comunque sono comunque molto particolari, un giocatore che vale comunque 20 milioni di euro, insomma Leverton non è che abbia così voglia di farselo scappare, 66 mila come stipendio settimanale, un giocatore, un attaccante comunque molto interessante, come esterno ragazzi non ce lo vedo molto, un giocatore molto offensivo, quindi come ha alla sinistra direi molto meglio, perché è destro, quindi rientra e calcia, molto veloce, molto bravo a calciare, tecnicamente veramente forte, salta sempre l'avversario, classe e derivatore tecnico come caratteristiche speciali, ai uobi nigeriano molto interessante. Penultimo di questa top, Tahit Chong ragazzi, che qui vedete allo United, ma è del club Bruges al momento, 67 di overall con 81 di potenziale, cresce tantissimo ed è un giocatore, anche lui come gli altri, molto interessante, ma guardate questi cappelloni qua ragazzi fan paura, sono stupendi, non so, complimenti alla EA che li hanno replicati veramente molto molto bene, comunque vale pochissimo, 2 milioni e mezzo, 67 di overall appunto come 81 di potenziale come vi ho già detto, 77 accelerazione, 79 di tascatto, 74 agilità, 73 di potenziale a 20 anni, è sicuramente un'ottima caratteristica in più classe e derivatore tecnico come caratteristiche speciali. E l'ultimo di questa top è Romario Barò, che abbiamo visto proprio ultimamente, perché costa poco, 7 milioni e mezzo, 8 mila come stipendio settimanale, un portoghese veramente interessantissimo, è un esterno destro OC OC perfetto, con delle statistiche straordinarie, con 73 di overall di base, 85 di potenziale, regista come caratteristica speciale e queste trecine particolarissime, particolarissime, un po' alcune legate dietro e altre che scendono, è una capigliatura fantastica e straordinaria. Quindi ragazzi siamo arrivati alla fine di questa top, spero che vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto, commentate con la prossima top che vorreste vedere sul nostro canale e commentate anche chi comprerete tra questi, perché sono forti e originali, quindi commentate, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!